Edoardo Soleri. Nasce a Roma il 19 ottobre 1997. Trascorre l'infanzia in Sud America a causa del lavoro dei genitori. Inizialmente vive in Argentina a Buenos Aires fino all'età di 10 anni. Forse è il segno del destino. Edoardo Soleri abita nel famoso quartiere che si chiama Palermo. Successivamente si trasferisce in Brasile prima a Rio de Janeiro e poi a San Paolo. Inizia a dare i primi calci al pallone nella scuola calcio giochi club. All'età di 10 anni torna in Italia. Inizia il suo percorso calcistico nella SSD Football Club. Qui viene notato dagli osservatori della Roma e nel 2013 entra nel settore giovanile giallorosso. Nasce centrocampista poi si trasforma in attaccante. Nella stagione 2015 gioca titolare fisso della formazione Primavera. Vince con la Roma il titolo di campione d'Italia. Esordisce con la prima squadra il 29 settembre 2015. In occasione della partita di UEFA Champions League in trasferta contro i bielorussi del bate Borisov. Nella stagione 2016 è titolare inamovibile della formazione Primavera. Segna 36 gol in 37 partite. Risultando il capocannoniere del campionato. Si trasferisce quindi in prestito allo Spezia. Nel 2017 viene ceduto in prestito in Spagna all'Almeria. Nell'estate del 2018 viene ceduto in prestito agli olandesi dell'Almere City. Nel 2019 rientra alla Roma. Ma viene ceduto ancora in prestito in Portogallo al Braga. Nell'estate del 2019 la Roma lo cede a titolo definitivo al Padova. In serie C. Nell'estate del 2021 finalmente approda al Palermo. Applausi Nell'estate del 2021 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 Grazie.